Continuiamo il nostro giro a intervistare i premiati di questa ventiduesima edizione, premio che lavora, eccellenze Calabresi, al professore Vittorio Caminiti, premio alla carriera. Eh sì, questo vuole, vuol dire che ho raggiunto un traguardo che effettivamente è questo, che quest'anno vado in pensione, quindi me la godrò impegnandomi nelle cose che mi fanno piacere. Questo premio ci casca come il caso di Maccheroni, quindi a suggellare una carriera che mi ha portato naturalmente grandi soddisfazioni e successi. E quindi sono felicissimo di ricevere questo premio, di essere qui e di averlo ricevuto anche con voi, che siete veramente una bella squadra, tu e tuo marito, che fate veramente un buon giornalismo. Grazie, ma oltretutto va in pensione per quanto riguarda la carriera, però non da quello dell'Accademia del Bergamotto, perché comunque è sempre in continuazione, in evoluzione. Diciamo che il Bergamotto è un hobby, una passione che ormai mi lega a questo frutto da oltre 35 anni. Sono qui a vedere come va a finire più che altro, perché ormai abbiamo coinvolto tante persone, ci sono tanti appassionati con l'Accademia, con la confraternita del Bergamotto, Bergamodel e quindi il Museo del Bergamotto. Abbiamo messo tanta carne al fuoco e i risultati non tardano a venire sicuramente. Grazie.